Non è tanto bella la tua voce, non è il massimo Poi ho cercato appunto, circa 8-9 anni, ho conosciuto le sue canzoni e in qualche modo sono qua oggi Come voi! Questa è la prima canzone della serata, siamo i pinguini tattici nucleari e parla di uno sport invernale